Stars and Stripes appare nelle vestigie del One for All indicando qualcosa, mentre Kudo dice a Midoriya di prepararsi ad abbandonare il One for All. E se tutto ciò una settimana fa non aveva il benché minimo senso, oggi torna tutto! E tutto ciò ci porta poi anche alla forma finale di Deku in My Hero Academia. E il capitolo di oggi infatti si apre per nostra fortuna con la spiegazione del perché nel capitolo precedente abbiamo avuto modo di vedere Stars and Stripes. Il New Order rappresentato dalla figura di Stars and Stripes all'interno delle vestigia dell'All for One era stato infatti distrutto, disintegrato da All for One e Shigaraki capitoli e capitoli fa. Però nel momento della disgregazione del New Order ecco che Stars and Stripes aveva intravisto qualcosa perché all'interno delle vestigia dell'All for One c'era una crepa e all'interno di quella crepa Stars and Stripes era riuscita a vedere proprio lui, Tenko. Ed era quella crepa che Stars and Stripes stava indicando nel capitolo precedente proprio per farla vedere a Kudo e a tutti gli altri user del One for All, compreso All Might, dato che le parole di Stars and Stripes sono proprio guarda, maestro, in riferimento a Toshinori, lì c'è un qualcosa, c'è una crepa, c'è una luce che proviene dall'oscurità. E questa scena artisticamente parlando, io penso che sia una delle tavole più belle a livello di dettagli mai vista in Mayro Accademia. Guardate ad esempio il dettaglio sull'occhio e sul volto in generale di Stars and Stripes con il New Order. Siamo davanti ad un livello di dettaglio che in Mayro Accademia io non avevo mai visto nonostante gli ultimi capitoli veramente, artisticamente parlando, non lo so, si pongono su un livello superiore. Su Weekly Shonen Jump, Horikoshi è il migliore. In Jump o Shuesha non lo so perché raga, Yuki no Butazzo di Dandadan, porca vacca se se la gioca, eh. Ed è qui che si interrompe, attenzione, la visione di All Might. Ciò che noi abbiamo visto, ovvero quella mano che indicava quella crepa, non era esattamente un flashback vero e proprio, ma era un qualcosa di più. Era una visione, anzi è una visione di All Might. Toshinori infatti riapre gli occhi, si sveglia sul palazzo dove sta in questo momento insieme a Deadshot, il quale tra l'altro gli dice Toshinori, cioè All Might non ti addormentare che tu mi muori per favore. E All Might dice, è successo un qualcosa di strano. Nonostante Deku e io ci troviamo a chilometri e chilometri di distanza, ho avuto una visione del One for All. Il One for All si sta logorando. Ed è proprio a causa di questo decadimento interno che io sono riuscito ad entrare in contatto con tutti gli altri user e con Midoriya stesso a chilometri di distanza. Ricordiamoci infatti che in questo momento All Might si trova circa nelle zone di Amamatsu, mentre Deku e Shigaraki stanno combattendo davanti al Fuji. Ed è proprio qui che infatti ci spostiamo. Il Fuji, di nuovo, siamo sotto, siamo alle pendici del simbolo del Giappone, che poi in realtà il Fuji non solo è un simbolo nazionale per il Giappone, non solo è un simbolo culturale geograficamente importantissimo, ma per i giapponesi il Fuji è un qualcosa di più. Per riferirsi al Fuji, qui in Giappone infatti raga non si dice Monte Fuji, Vulcano Fuji, Fujiyama. Qui in Giappone per riferirsi al Fuji si dice Fuji-san, dove San è il suffisso dedicato alle persone. E già solo questo elemento dovrebbe farvi capire quanto questa scena che stiamo vedendo in questo momento abbia un impatto sui lettori giapponesi in particolare, ma è un impatto che dovrebbe avere in un qualche modo anche su di noi, con questa scena, con questa visuale, con questo punto di vista mastodontico sull'intero Giappone. Ed è qui che la battaglia sta dunque continuando e si pone questo elemento, che a me non è piaciuto tantissimo, una vera e propria paraculata, perché Stars and Stripes alla fine sì, l'ha vista pure Shigaraki all'interno delle vestigia. Ma com'è possibile allora che Toshinori e Shigaraki abbiano visto Stars and Stripes, Captain Bait, all'interno delle vestigia? Ecco, il capitolo ci dice, almeno secondo un parere di Shigaraki, che dato che la volontà degli eroi si trasmette da eroe a eroe, è rimasta una fiammella di Stars and Stripes all'interno delle vestigia. Orikoshi, dillo che era per fare una scena figa e basta, ci va bene lo stesso, insomma. Comunque, mentre Shigaraki si rende conto di tutto ciò, pensa a sto fatto di Stars and Stripes, eccetera, lancia un attacco verso Deku, spedendolo a terra. E qui vediamo il costume di Deku distruggersi del tutto, con un rimando, o almeno a me piace pensarlo, a Dragon Ball, no? Con Goku, che nelle battaglie finali di fatto si strappa il costume, la tuta da combattimento e gli rimangono solo i pantaloni. Ecco, adecco, più o meno capita la stessa cosa, forse con il mantello di Gran Torino, sembra di vedere. Ed è qui che inizia la parte più importante del capitolo di oggi. Non la più figa, perché lì ci arriviamo verso veramente alla tavola finale, ma la più importante, circa proprio l'abbandonare, il lasciare andare il one for all. Stars and Stripes aveva infatti indicato quella crepa, e Kudo aveva capito al volo. Midoriya non gli era mai piaciuto, e questo, vi ripeto, lo abbiamo capito numerose volte, però ha capito Kudo, vedendo quella crepa, che Deku ha ragione, c'è ancora una speranza, e soprattutto, ora come ora, raga, Shigaraki è il personaggio, l'essere, l'uomo, più forte di tutto Mayuro Accademia. Shigaraki non si può battere con la forza, ma si può battere dall'interno. E qui, ovviamente, non solo, torniamo a tutto il discorso della battaglia all'interno delle vestigia, che, oh, raga, ma se seguite sto canale, ma da quanto ce la stiamo tirando dietro sta battaglia all'interno delle vestigia? Comunque, non è solo questo, perché Kudo dice, lasciare andare il one for all in questo momento, vuol dire, per noi fantasmi, che viviamo in quest'isola dei morti ormai da generazioni, fare un'ultima grande azione, ovvero entrare all'interno di all for one, dato che ora siamo collegati, e prendere quella crepa e distruggerla. Non è detto che Shigaraki non riesca ad utilizzarci, ma se vado io per primo, dice Kudo, il secondo user, e Shigaraki dovesse utilizzare il mio potere, ovvero il gear shift, sarebbe la quarta volta consecutiva che tale potere verrebbe utilizzato. Questo vorrebbe dire che il rinculo di tale potenza, quindi il rinculo dell'attacco sarebbe così forte, che Shigaraki in ogni caso starebbe per qualche minuto mezzo imbambolato, ed è quello il momento nel quale non solo Deguagisce dall'esterno, ma nel quale le vestigia possono aprire quella crepa, distruggendo di fatto Shigaraki mentalmente dall'interno, con una ferita che nessun quirk può rigenerare. La proposta di Kudo, ovviamente, manda in crisi tutti quanti gli altri user, con Annie, il sesto possessore, ovvero il possessore di Smokescreen, che dice, fra, ma tu stai proprio male. Senti, fai così, lascia andare a me, che in questo momento lo Smokescreen a Degu è inutile, ma se tu dai il tuo potere a Shigaraki, potrebbe veramente essere la fine. Cioè, non è detto che Degu riesca effettivamente a sopportare la potenza del nemico. E qui entra poi in gioco anche Bruce. Bruce che dice, io ti ho sempre seguito, e lo abbiamo visto, l'abbiamo visto nel flashback di All4One, io ti ho sempre seguito, ho sempre creduto in te, ma questa è una cavolata. Cioè, ma come ti viene in mente di voler andare in questo momento all'interno di All4One per distruggergli quella crepa dall'interno? Non se ne parla proprio. E Kudo qui fa un esempio molto interessante, ovvero dice, Midoriya, ti ricordi quando hai ottenuto questo potere? Cosa hai pensato? Questo potere, il One4All, era come un nuovo posto all'interno, no? del microonde. Ecco, prendi questo esempio e rendilo più violento. E qui gli fa un bellissimo esempio, ovvero, com'è, no? Che Bakugo ti passa praticamente gli appunti quando sei a scuola? Te li lancia contro. Ecco, è la stessa cosa, c'è modo e modo per poter passare un qualcosa. E il modo in cui tu devi passare il One4All deve essere un modo violento, determinato, motivato. In questo modo abbiamo effettivamente una possibilità. E questo discorso convince comunque sia più o meno tutti, cioè mette veramente d'accordo tutti quanti. Il One4All si sta allogorando. Ormai è un potere in un qualche modo, per quanto ci viene detto, almeno fino a questo momento, da All Might, destinato a sgritolarsi. A causa proprio, magari, ecco, del confronto, dell'unione con All4One. I due poteri, alla fine, raga, si sono uniti. Non sono esattamente la stessa cosa, ma sono quantomeno collegati. E qui vediamo Deku, stare accasciato a terra, mantenersi sui gomiti, piangere, ovviamente. Perché? Perché dice, anzi, lui non dice niente, lui si limita ad ascoltare le voci all'interno della sua testa, e Nana Shimura, a dirci quello che Deku prova in questo momento. Deku non vuole lasciare il One4All per paura, per timore, che poi l'avversario diventi troppo forte ed imbattibile, perché il piano di base c'è, è possibile effettivamente riuscire in questo intento, distruggere Shigaraki dall'interno è un ottimo modo, anzi, forse l'unico. Il problema qual è? Qui Deku piano piano si sta tirando su, no, da terra. Il problema, dice Nana Shimura, è che Deku, tu, Izuku, nono user, del One4All, consideri questo potere come un dono, come il dono del tuo idolo, come il dono di uno dei più grandi eroi mai esistiti, come il dono del simbolo della pace. È come una fiaccola, no? È un qualcosa che si passa, che si dà, che si tramanda alle nuove generazioni, e Izuku forse è ancorato a questo potere, non lo vuole lasciare andare, per il significato che questo potere ha per lui. E qui, infatti, la scena diventa estremamente drammatica, con queste linee di sfondo che ci mostrano la dinamicità di Shigaraki che sta arrivando. E prima di arrivare alla parte finale del capitolo, che, cioè, è veramente la parte forse più assurda, una roba che avevamo teorizzato in uno short, e che si sta realizzando, cioè, sta roba è assurda. Ecco che qui volevo fare una piccola riflessione insieme a voi, quindi mi raccomando, come sempre, commentate circa proprio questo lasciare andare il One4All. Ora, sicuramente Deku, con tutti questi poteri, ha raggiunto un livello esagerato, quindi, già che hanno tolto il Danger Sense, già che mo' si toglie il Gear Shift, insomma, se dovesse rimanere con Smoke Screen, come si chiamano là, Black Whip, che mori e entra in azione, Flot e la Super Forza, cioè, già sarebbe una roba un po' più equilibrata. Però, a sto punto, se Deku dovesse lasciare andare decisamente, cioè, per sempre, l'intero potere di One4All, io, ragazzi, mi dispiace, sta cosa non mi piacerebbe proprio. Cioè, è quello che voglio dire, è che non riesco ad immaginarmi un futuro nel quale Deku non ha nemmeno un singolo potere. Magari gli rimane solo la Super Forza come All Might, e questa cosa sarebbe stupenda, magari, ecco, tutti i user se ne vanno, ma rimane quella sala, rimane quell'isola dei morti all'interno di Izuku stesso, nel quale è concretizzata la forza che si è generata di generazione dopo generazione. Ecco, questa è, quantomeno, la mia speranza. E, anzi, in questo caso, vedere anche una nana Shimura andare a salvare suo nipote, porca vacca, ma sarete d'accordo ben con me che sarebbe una scena figa da vedere, o no? Questa, dunque, è la mia speranza, anche perché vedere un Deku senza poteri, guardare da lontano Shoto, guardare da lontano Bakugo, io, cioè, non ce la farei, non ce lo vedo nemmeno, sinceramente, però ho fiducia nel maestro Rikoshi che sicuramente, cioè, ha pensato ad una cosa logica o quantomeno coerente, anche seppure se Deku dovesse finire senza poteri, senza one for all, cioè, comunque sarebbe coerente come scelta. Vabbè. Chiusa questa parentesi, eravamo rimasti con Shigaraki che si dirige verso Deku ed è qui che assistiamo ad una delle tavole più belle, perché vediamo questa sorta di frusta nera, letteralmente, lo chiamerei quasi tentacolo, arrivare da sopra, arrivare da sopra e tagliare di nuovo il braccio a Shigaraki che si mette a ridere e dice, cavolo, questo è molto interessante. E qui vediamo il braccio destro di Deku che si inizia, no, ad avvolgere con questo black whip e qui assistiamo alla forma finale a quanto pare di Deku o meglio, all'inizio della trasformazione finale di Izuku Midoriya con il one for all. Questa scena non solo è un riferimento a Carnage, cioè io veramente mi ci gioco quello che volete, che per questa scena Oricosha ha preso veramente ispirazione da Carnage della Marvel, ma potrebbe essere, qui non metto immagine, non faccio spoiler, anche un riferimento o quantomeno un omaggio a Kimetsu no Yaiba. Vediamo quindi questo Deku solo con la parte inferiore dei pantaloni, tra l'altro, cosa che si potrebbe collegare alla famosissima scena di lui e Oshako che cadono dal cielo verso una città, e su questo elemento ci torneremo a breve, e lo vediamo venire avvolto piano piano dal Black Whip finché non rimane la singola mano sulla quale vediamo una sorta di stella, stella che personalmente mi ha ricordato quelle di Bakugo, ma in realtà, secondo me, questa scena in particolare è una sorta di anticipazione a ciò che sarà, perché qui vediamo che l'intero corpo di Deku adesso ha una sorta di membrana nera attorno, una sorta di, non lo so, Venom, trasformazione Venom, carina come cosa, e questo suo nuovo costume, questa sua nuova forma che vi ripeto, secondo me, dovremmo ancora vedere, fa dire a Shigaraki una cosa anche che, secondo me, c'è veramente da doki doki, no, come mi stiamo insegnando qua, emozionante, ovvero, con Shigaraki che dice non sembri nemmeno un eroe, e vi ricordate questa frase quando era stata detta? Era stata detta durante l'arco di Vigilante Deku, e questa, anzi, questo forse è il rimando più bello, che questa saga finale pone verso quell'arco narrativo, un arco narrativo che comunque è fantastico, e secondo me, anche Oricoshi, nonostante questo suo ottimismo di base, si sta allineando un po' verso quella che è la tendenza all'eroe oscuro, all'anti-eroe, a me piace come idea, poi soprattutto un Izuku che vuole salvare, che usa questa forma, no, per andare, comunque, a salvare l'avversario piuttosto che a ucciderlo, a me piace. Comunque, vi dicevo il fatto di Oshako e Deku che cadono dal cielo, perché noi nel capitolo precedente vediamo una città dall'alto all'interno delle vestigia proprio di Shigaraki, ebbene, noi sappiamo che Oshako e Deku sono lontanissimi in questo momento, quindi sempre se non dovesse tornare in azione Kurugiri, è difficile che i due alla fine vadano a trovarsi sullo stesso campo, però raga, noi abbiamo Deku, abbiamo Shigaraki, e abbiamo una città dall'alto, mo, non voglio dire, ma non è che questa tavola ce la ripropone o ricosci con Deku che cerca di afferrare Shigaraki mentre i due cadono sulla città, sta roba, a me, farebbe uscire di senno. Mi raccomando, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e prima che mi caccino da casa perché sto parlando troppo, noi ci vediamo qui sotto. e poi ci vediamo qui in questo video. Grazie a tutti.